di nuovo insieme con l'almanacco con l'oroscopo del giorno oggi il 27 marzo e si festeggia san alberto ciao a tutti e a tutte da mauro compleanni nati oggi la brava e bella maria carri cantante nata il 27 marzo del 1970 lo ricordiamo con il luna pop allora e poi oggi come cantautore cesare cremonini nato il 27 marzo del 1980 la frase di oggi prima di arrivare al nostro oroscopo pasqua voglia o non voglia non fu mai senza foglia ariete oggi qualcuno vi metterà al corrente di una notizia segreta è importante in questa occasione non parlarne con nessuno e riflettere fate attenzione al denaro in questo momento è molto fluttuante tra le vostre mani e rispecchia i vostri umori alterni toro non entrate in competizione con una persona che vuole dimostrare la sua superiorità sarebbe un grosso errore da parte vostra piuttosto riponete più fiducia nelle vostre capacità c'è già chi vi apprezza proprio per la vostra rassicurante presenza gemelli avrete bisogno di tranquillità oggi non vi importerà essere al centro dell'attenzione l'unico vostro desiderio è quello di non essere infastiditi dovrete riflettere seriamente su un progetto di lavoro a lungo termine una svolta professionale potrebbe essere positiva cancro vi sentirete pieni di buon umore qualcuno tornerà alla carica perché desidera approfondire la vostra conoscenza e questo contribuirà a rendervi ancora più contenti probabili entrate extra di denaro che vi permetteranno di togliervi qualche capriccio leone ci sono in arrivo probabili gratificazioni un po in tutti i campi qualcuno vi farà sentire particolarmente importante chiedendovi un vostro parere su un problema personale un collega chiederà invece la vostra consulenza per un nuovo progetto di lavoro momento di grande ascesa vergine oggi una telefonata susciterà la curiosità di chi avete intorno non date spiegazioni ma godetevi il vostro piccolo segreto potreste inserire tra i vostri interessi lo studio di qualche materia legata alla disciplina dell'alimentazione vi riuscirà benissimo bilancia riceverete un piccolo dono che vi farà felici non precipitatevi per ricambiarlo piuttosto regalati un po del vostro tempo a quella persona sarà il vostro modo migliore per ringraziarla qualcuno potrebbe porvi domande indiscrete su una persona voi non parlatene scorpione le vostre intenzioni anche se mal espresse verranno finalmente capite anche da chi si mostrava così ostile nei vostri confronti è anzi probabile che nasca una sincera amicizia non dovrete mandare all'aria un progetto solo perché non avete potuto dire la vostra opinione riflettete sagittario vi sentirete pieni di entusiasmo e fiducia nelle vostre risorse l'unico rischio che state correndo in questo momento è di essere eccessivamente ottimisti e non considerare in maniera obiettiva tutti i risvolti della situazione attenzione agli abbagli capricorno un sì detto senza convinzione porterà ad un grosso successo senza dubbio inaspettato da parte vostra la serietà e l'efficienza che vi contraddistinguono saranno apprezzate anche da chi vi darà poi una prova tangibile della sua stima per voi siete al settimo cielo acquario giornata dedicata all'amore quello con la maiuscola riuscirete a parlare come da tanto tempo non accadeva tra di voi vi sentirete pieni di passione e tutto il resto non avrà più importanza non accetterete intromissioni di alcun tipo grande armonia pesci oggi uscirete dal vostro torpore un po anche perché qualcuno vi farà notare che è il caso di scendere dalla nuvoletta sulla quale vi trovate e un po perché vi sentirete stimolati da una nuova conoscenza farete di tutto per farvi notare e ci riuscirete benissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti